Dati truccati in Mitsubishi. La casa automobilistica giapponese ha ammesso di aver alterato i dati relativi alla pressione delle gomme durante i test di altri quattro modelli per migliorare l'efficienza energetica. Bercoledì il presidente Tetsura Ekiwa si era già scusato con il tradizionale Enkino. Le manipolazioni riguardano 625.000 veicoli prodotti nel 2013. Le anomalie sono state scoperte nell'ambito di un'inchiesta interna ordinata dalla stessa società. Le azioni Mitsubishi sono crollate in borsa.